Sequestrata un'area in Contrada de Iella nelle campagne di Caltanissetta dove è presente una ditta di recupero rottami a seguito di violazioni al codice dell'ambiente riscontrate dalle forze dell'ordine. Dal sito sono stati prelevati campioni di terreno che saranno sottoposti ad analisi di laboratorio. Inoltre sono state sequestrate due targhe di autoveicoli appartenenti a mezzi rubati sulle quali sono in corso accertamenti. Irregolarità riscontrate a seguito dei controlli avviati nel territorio della provincia Nissena, mercoledì, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Municipale, dall'Agenzia delle Dogane e dall'ARPA. Nell'ambito dell'operazione Periferie Sicure lanciata lo scorso anno dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che mira a contrastare l'illegalità diffusa. Le attività coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale stanno interessando oltre al territorio di Caltanissetta anche Avellino, Pesaro, Urbino, Piacenza, Reggio Emilia, Sondrio e la provincia del Verbano, Cusio, Ossola, coinvolgendo oltre 2.400 unità delle forze di polizia e delle polizie locali. Nell'ambito dei controlli nella sola giornata di mercoledì sul territorio Nisseno sono stati controllati 12 gestori ambientali, ovvero ditte di recupero rottami in ferro e altri materiali da riciclare, un'area portuale, 118 veicoli e 288 persone. Una persona inoltre è stata denunciata dall'Arma dei Carabinieri poiché non in regola con la normativa sul lavoro.